L'incidente ieri sera a Minaggio sulla regina all'incrocio con Pia Cadorna. Una donna di 44 anni è stata travolta da uno scooter mentre attraversava la strada. Nell'incidente ha riportato un gravissimo trauma cranico e altre ferite. È ricoverata in terapia intensiva neurochirurgica all'ospedale di Varese. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la donna, residente a Minaggio, era appena scesa dal bus e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Un camion si sarebbe fermato per farla passare. Mentre lo scooter che arrivava nello stesso momento non si sarebbe accorto della presenza del pedone. Il motociclista avrebbe dunque superato il camion travolgendo la donna. Violento l'impatto, la 44enne ha riportato un grave trauma cranico e la frattura del femore. A terra anche il motociclista, un uomo di 55 anni, che non ha riportato però gravi ferite. Per i soccorsi sono intervenute l'automedica del 118 e l'ambulanza ed è stato poi chiesto l'intervento dell'elicottero del 118. La donna, dopo le prime cure, è stata trasportata ad urgenza a bordo del velivolo all'ospedale di Circolo di Varese. La prognosi è riservata. Accertamenti dei carabinieri di Minaggio per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.